Grazie Presidente per dichiarare il nostro voto favorevole su questo emendamento. Il Ministro degli Interni ha recentemente dichiarato la sua volontà di istruire al più presto un percorso per modificare gli assetti delle province e riformare gli enti locali. Credo che questo percorso avrebbe bisogno di tempo. Il testo del mille proroghe anticipa le scadenze elettorali, costringe diversi Presidenti e diversi Consigli a interrompere la legislatura prima che sia finito il loro mandato, anche alcuni mesi prima che sia finito il proprio mandato, anticipando la scadenza elettorale. Troviamo incomprensibile questa scelta. Siamo d'accordo con l'Unione delle province italiane che questa scelta andrebbe rigettata, quindi voteremo questi emendamenti per questa ragione. Grazie. Grazie. Grazie.